cari amici di mille un'avventura spero che abbiate passato un buon natale e quindi per augurarvi buone feste che continuano ovviamente dopo il natale abbiamo questa notizia dagli e paper adventures quindi un veloce video per pubblicizzare questa ulteriore iniziativa di questi creatori di avventure testuali che si stanno dedicando non solo agli ebook reader ma anche al vic 20 e in effetti quello che troviamo qui in questa pagina poi troverete sotto in descrizione il link per andarvi a scaricare tutto in questa pagina si parla di avventure testuali per il vic 20 e in particolare questo torna a cana a cana torna a casa jonesi degli paper adventures una avventura testuale con immagini per il vic 20 hanno anche pubblicato un video sul loro canale quindi anche il video ve lo metterò qui sotto in descrizione programmiamo avventure testuali con immagini sul commodore vic 20 parte 1 di 5 ci saranno evidentemente 4 altre parti e mi stupisco che gli paper adventures ma hanno aperto il canale da poco abbiano solo 18 iscritti quindi vi invito assolutamente a iscrivervi al loro canale e attaccare anche la campanellina per essere informati sui successivi appuntamenti di questo corso per programmare avventure testuali sul commodore vic 20 e qui vedete poi lo vedrete nel video questa particolare copertina che sembra richiamare una rivista degli anni 80 ed eccola qui che ce l'abbiamo la ingrandiamo un po l'unica rivista con tutti i programmi su cassetta mensile anno 3 numero 36 5500 lire costa questo gossip costava questo gossip 1999 e chiaramente gossip è un'istruzione del basic del vic 20 del commodore 64 del del basic in generale e c'è questa anteprima torna a casa jonesi la nuova avventura testuale degli e paper adventures che tra poco vedremo e poi ci sono altri articoli interessanti su questo su questa rivista flight 015 tutti i trucchi dei campioni 8 bit signori e chi se ne intende sa cosa vuol dire aschi picchia il motore grafico per le tue avventure in basic vic 20 che passione altro che spectrum ecco un magazzino con soli 3k la grafica più bella ecco questo ovviamente non è una rivista esistente ma è confezionata dagli e paper adventures che l'hanno ricreata prendendo ispirazione dalle vere riviste degli anni 80 che si occupavano di programmi per commodore 64 per vic 20 e grazie a questa trovata introducono il giocatore al gioco in cui bisogna salvare questo jonesi questo gatto che avete visto questo è il motivo per cui c'era questo gatto rosso con il cappello natalizio all'inizio non si è capito bene cosa ci facesse questo è jonesi praticamente ecco torna a casa jonesi siamo un bel gattone rosso viviamo ad un umano un po matto e il problema è che pur i topastri ci rispettano e abbiamo deciso di dormire fuori questa notte e il furgone aperto con comodi scatoloni ci siamo adagiati ma hanno chiuso il portellone e a questo punto il è partito il furgone e chissà dove siamo finiti e ci sono 10 entusiasmanti immagini a 16 colori da oggi solo per il tuo commodore vic 20 e poi ci sono tutte le istruzioni per giocare suggerisce di usare i comandi nord sud est ovest inventario g per vedere l'immagine di per la descrizione così via verbo e sostantivo sono quelli da usare ecco questa è appunto l'introduzione fornita con questo escamotage della rivista d'epoca nel video poi si spiega la genesi di queste immagini perché creare immagini a 16 colori sul vic 20 non è un'impresa facile sicuramente e poi spiegano anche come hanno realizzato molte di queste cose lo stesso faranno più avanti nelle prossime puntate quindi vi suggerisco davvero vi consiglio davvero di andare a vedere il video molto simpatico tra l'altro e di seguire il resto adesso per chiudere questa questo spot pubblicitario per gli paper adventures andremo semplicemente a vedere il programma qui l'ho caricato sul un emulatore in javascript immagino che sta girando nel nel browser però in effetti è meglio giocarlo ecco qui che è iniziato vedete quanto ci ha messo prima ancora che avessi cominciato a registrare avevo fatto caricare il programma ed ecco qui questo è jonesi il gatto rosso torna a casa jonesi i paper adventures 21 premi un tasto ma noi lo andiamo a premere questo tasto ecco nella versione invece con l'emulatore del vic 20 il solito vice per in versione vic 20 e vediamo che cosa si sono inventati già vedete queste immagini immagini molto pixelate ma viene spiegato tutto il motivo è ovvio non ci sono grandi risoluzioni su queste macchine avete anche visto in video passati sul commodore 64 quanto fossero abbastanza grandi pixel però se si voleva ottenere qualcosa di più qualche immagine in più colori bisognava usare risoluzioni più basse e in questo caso come hanno anche spiegato nel video c'è questo metodo che usa una grafica raster intanto premiamo un tasto così vediamo altre immagini mi ricordo invece avventure per il per lo zx spectrum in cui c'era sì l'immagine della dell'avventura che veniva riprodotta ma era in grafica vettoriale e veniva prima tracciata la sagoma dei vari oggetti che formavano l'immagine e poi col comando fill si coloravano queste immagini quindi con queste avventure in cui questi autori si erano ingegnati per fare della grafica con lo zx spectrum si usavano i vari comandi del basic che avevano la possibilità di tracciare linee e poi di riempire delle aree chiuse con dei colori sul vic 20 e gli autori di degli paper adventures hanno notato che era un po più complicato se non lavorandoci tantissimo con una cosa di questo genere in grafica vettoriale e quindi hanno preferito una grafica raster però con questi pixeloni che vedete che comunque rendono l'idea perché come vedete nella descrizione c'è scritto è notte fondo ormai sei chiuso nel retro del furgone qui dentro ci sono vari scatoloni cosa fai e qui si vede appunto il fondo del furgone con questi scatoloni e dobbiamo decidere impersonando jonesi cosa fare e allora proviamo a esaminare gli scatoloni si possono usare le parole abbreviate fino a quattro lettere abbiamo esaminato gli scatoloni e sembrano un buon posto per un pisolino cosa faccia cosa facciamo dormiamo dormi e ci sistemiamo dentro una e vedete qui che arrivati a questo punto ci sono dei puntini che ci fanno capire che si può far scorrere il testo ci stiamo sistemati dentro una scatola vuota e ci addormentiamo la mattina un uomo apre il portellone e con un salto siamo fuori e premendo un tasto ci troviamo in un vasto parcheggio circondato da grandi edifici vediamo anche il rudere di un camion che cosa facciamo ecco possiamo per esempio andare a nord per andare a visitare i luoghi ma a nord non si può andare proviamo allora andare a sud ecco qui sud e stiamo zampettando nella grigia e fumosa zona industriale della città camion furgoni e tir vanno avanti e indietro cosa facciamo ecco possiamo anche guardare intorno e guardando vedete che viene riprodotta la descrizione in questo gioco ci sono 10 immagini in tutto ne abbiamo già viste un paio e proviamo andare ad est vediamo che succede andando ad est non possiamo andarci guardiamo l'inventario che non l'ho ancora fatto non abbiamo nulla con noi non abbiamo ancora nulla nelle tasche del nostro gatto proviamo andare a ovest questa è la via principale della città la gente entra esce dai edifici e negozi pieni di cose curiose cosa facciamo proviamo andare a sud e a sud ci troviamo in un mercato all'aperto molta gente affolla le colorate bancarelle e vedete che si vedono appunto le bancarelle di questo mercato si vede un edificio e la grafica per quanto a grandi pixel è comunque sicuramente valida e tutti questi colori fanno appunto piacciono perché rendono la cosa bella e variopinta e ricorda tantissimo le avventure degli anni 80 cosa facciamo proviamo esaminare le bancarelle vediamo se una delle bancarelle ospita una simpatica pesci vendola cosa facciamo allora per chiudere proviamo a rubare un pesce ruba pesce facciamo proprio i gatti di strada dispettosi non ha capito cosa volevamo fare e proviamo a miagolare miagola ma che bel micione prendi questo è per è per te ma allora eri tu che miagolavi tutta la notte tra le case la donna ti porge un bel pesce fresco che visi che vista la fame mangi subito ecco noi abbiamo subito pensato di rubare il pesce ma gli paper adventures nella loro creatività hanno pensato che fosse più educativo miagolare e farsi regalare un pesce vediamo se l'abbiamo già mangiato non abbiamo nulla con noi quindi l'abbiamo mangi subito quindi l'abbiamo mangiato subito proviamo a miagolare di nuovo miagola va bene va bene bel micione ecco un altro pesciolino per te cosa fai vediamo se questa volta ce l'abbiamo no forse l'abbiamo mangiato di nuovo e allora miagola ancora vediamo se ci prendono a calci finalmente mi sa che non ti darà altro bene allora proviamo andare verso ovest tanto per vedere un'altra scena se c'è non puoi andarci proviamo andare a est e qui un'altra scena siamo arrivati in una zona residenziale un alto muro circonda alcune villette qui vedi anche un cartello sul muro che cosa fai leggi cartello perché noi siamo un gatto istruito e quindi non capisco infatti comunque esamina cartello sopra c'è il muso di aia un enorme mastino arrabbiato sul collare incisa una stella cosa facciamo lasciamo per proviamo a saltare vediamo se ci fa salire sul muro ci sono dei dissuasori accuminati in alto meglio non salire quindi evitiamo di saltare e tanto per vedere un'altra locazione proviamo andare a est e a est siamo arrivati qui vedo delle scale vedo dunque la strada termina davanti al portone di un vecchio edificio affiancato a destra da un soleggiato cortile c'è una donna o una seduta cosa fai proviamo a miagolare vediamo se ci dà qualcosa e poi ci salutiamo ovviamente ci sono degli enigmi da risolvere io ho provato solo a fare qualche passo e per ora non ne avevo incontrati di rilevanti quindi è un'avventura da provare sicuramente come tutte le altre avventure degli e paper adventures allora miagoliamo vediamo se ci dà questa volta niente proviamo esaminare il donnone ci sta squadrando proviamo andare a est possa via gattaccio di strada di qui non si passa ecco e quindi abbiamo trovato probabilmente un primo enigma da superare per poter andare verso est chissà magari non c'entra nulla oppure è uno dei primi enigmi che abbiamo incontrato bene mi raccomando avrete tutti i link qui sotto in descrizione per andarvi a vedere il video degli paper adventures dove c'è la prima puntata il primo episodio di questa serie che spiega come creare avventure testuali con immagini sul vic 20 e poi troverete anche il link per scaricarvi il gioco non mi resta quindi che augurarvi un buon anno può darsi che qualche altro video prima del 2022 lo faccia ma non so ancora di quali argomenti perciò vi auguro eventualmente buon anno se non ci vediamo prima del primo gennaio e quindi mi raccomando passatela bene e compatibilmente con il periodo che stiamo vivendo e quindi auguri a tutti e grazie ancora per aver seguito questo video alla prossima buona giornata e buon anno